Buonasera, ben trovati alla nostra terza edizione del TG6 che apriamo con la politica. Abruzzo Civico infatti annuncia una spaccatura al suo interno perché lascia scelta civica accusata di essere ormai lontana dall'idea di civismo. Stessa accusa mossa al parlamentare Giulio Sottanelli, reo secondo Giulio Borrelli, di aver creato una lista civetta per le prossime amministrative. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Buonasera, ben trovati alla seconda edizione del nostro TG6 che apriamo con la politica per parlare di Abruzzo Civico. Questa mattina conferenza stampa dei vertici per parlare dell'attuale situazione in seno alla maggioranza degli obiettivi del partito ma soprattutto del divorzio che è ormai ufficiale con scelta civica. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Abruzzo Civico parte seconda. Se dopo più di un anno di governo e dopo una rivendicazione che tanto aveva creato scompigli in regione avevano ottenuto una poltrona, vedi spostamento di Mario Mazzocca, Nerluoro, di sottosegretario al posto di Camillo D'Alessandro, ormai consigliere con delega, oggi Giulio Borrelli annuncia una nuova fase. Si tratta di una spaccatura rivolta all'antipolitica, nel dettaglio di chi fa accordi che nulla hanno a che fare con il civismo. Attualmente noi riteniamo che l'Abruzzo marci a due velocità molto distinte. L'area metropolitana che sta qua attorno e tutto il resto che marcia a una certa velocità sostenuta, diciamo che va oltre 100 all'ora, e il resto che marcia a scattamento ridotto. In questa nuova fase faremo a meno di scelta civica, che è una delle componenti originarie di Abruzzo Civico, che sta dando vita legittimamente a un suo progetto nazionale che però non ci appartiene e nel quale non ci riconosciamo. Le associazioni che direttamente o indirettamente fanno capo a questo partito nazionale hanno convocato per domani davanti al notaio un'assemblea di amici fondatori per stravolgere, noi riteniamo lo statuto, nominare persone a loro vicine negli organismi dirigenti e cercare di assoggettare Abruzzo Civico alla scelta di quel partito. A fare nomi e cognomi poi ci pensa Andrea Gerosolimo, che spiega come scelta civica si sia distaccata dal loro ideale. Noi rispettiamo la scelta fatta dall'onorevole Sottanelli, ma naturalmente non era più possibile proseguire l'attività del movimento civico da una parte inneggiando al civismo nella nostra regione e dall'altra costituendo a Roma, ma con evidenti ricadute sul territorio, il movimento che di fatto è costituito dal sottosegretario, di cui io neanche ricordo il nome, ed è grave, Zanetti, credo che si chiami cittadini italiani, e questo percorso su due binari non era più possibile. Partirò una fase nella quale l'appello è rivolto a tutti quei cittadini, forze sociali e culturali, purché pronti a risvegliare energie positive, soprattutto da parte di chi non si riconosce nei partiti e desidera proporsi in prima persona per il bene comune. Parliamo ancora di politica, partito democratico spaccato e fronte comune in consiglio regionale tra esponenti di centrodestra e centrosinistra, terramani contro l'ipotesi unita di un'asl unica regionale. Filippo Tronca. Paradossi dell'aritmetica politica. L'ipotesi di un'asl unica regionale spacca il partito democratico, anche in consiglio regionale, ricompatti consiglieri di centrodestra e centrosinistra terramani. Un fronte che va da Dino Pepe, Sandro Mariani e Luciano Monticelli del PD, a Gianni Chiodi e Paolo Gatti di Forza Italia, a Giorgio Di Nazio del nuovo centrodestra, a Mauro Di Dalmazio di Abruzzo Futuro, compatti contro la proposta, quella appunto della asl unica, caldeggiata in particolare dall'assessore alla sanità Silvio Palucci, che assicura che tale riforma permetterà grandi risparmi di spesa con la drastica riduzione di un buon numero di manager, direttori amministrativi e direttori sanitari. Ma il timore ribatti il fronte dei terramani è che la sede centrale sarà l'Aquilo Pescara e dunque l'epocale riforma rischia ancora una volta di penalizzare il territorio, con la beffa aggiuntiva che i debiti dell'AS di Pescara a 16 milioni e quelli dell'AS di Lanciano Vasto Chieti, 24 milioni, sarebbero spalmati anche sui conti molto più virtuosi della AS di Teramo. Esprimo una perplessità perché da quello che mi risulta nelle prossime ore ne chiederò contezza mediante una comunicazione ufficiale scritta ai vari manager delle quattro AS per capire qual è la posizione debitoria che attualmente ci risulta essere notevole per l'AS di Chieti è importante per quella di Pescara mentre più virtuosa per quella dell'Aquila e di Teramo. Quindi su questo è la prima base di ragionamento. Poi c'è il modello delle altre regioni che attualmente è una delle poco l'unica che ha intrapreso questo percorso di unificazione delle AS ha dovuto poi drasticamente fare un dietrofronte ovvero le marche quindi questo ci fa riflettere e ci fa capire che probabilmente dobbiamo meditare moltissimo e dobbiamo prestare molta attenzione perché parliamo di un qualcosa che rappresenta quasi la totalità del nostro bilancio regionale ovvero la sanità. La nostra vera paura è che la provincia di Teramo in questo caso, ma anche gli altri credo che le siano contrarie anche per quanto riguarda le altre province avere meno rispetto a chi avrà la direzione generale crediamo che sulla sanità anzi siamo convinti che la sanità non ci si può più scherzare che interlocuzione c'è tra alcuni consiglieri regionali del centro-sinistra e questo può avere delle ripercussioni poi sull'equilibrio della maggioranza? Io mi auguro innanzitutto che non si arrivi in aula ma che l'assessore Palucci, il presidente D'Alfonso in questo momento commissario per la sanità visto che siamo una regione commissariata non vadano alla prova dell'aula ma che ci ripensino prima e che lasciano sui territori ancora la gestione della sanità perché se possiamo essere d'accordo per esempio per un centro unico di prenotazioni se siamo d'accordo per fare un abbandono di gara unico per l'acquisto delle macchine quindi fare l'analisi va benissimo però dopo sul territorio deve lavorare chi il territorio ben lo conosce e non è possibile come si fa molte volte da Roma o diciamo in altre posizioni gestire un territorio solo sotto il profilo numerico E noi torniamo a parlare ancora una volta della vicenda di Banca Carichieti perché Confartigianato imprese Chieti lancia una class action per tutelare gli oltre 500 risparmiatori coinvolti nel caso delle obbligazioni subordinate di Carichieti per un ammontare totale di 25 milioni di euro l'associazione ha messo a disposizione i suoi legali gli avvocati Ernesto Pagliarici, Giuseppe e Simone Di Tizio per tutelare i risparmiatori che hanno investito nelle obbligazioni molti risparmiatori emidenziano da Confartigianato sono stati infatti indotti a sottoscrivere le obbligazioni senza avere la minima cognizione sui rischi collegati danneggiato anche Credit Fidi il consorzio Fidi di Confartigianato che si è visto azzerata la propria obbligazione di 150 mila euro e parliamo di cronaca incidente all'Aquila questa mattina quando intorno alle 8 un'auto guidata da un uomo di 75 anni si è schiantata contro il muro di cinta di Piazza Darmi un malore molto probabilmente la causa dell'incidente quando il personale del 118 è arrivato sul posto per l'anziano purtroppo non c'era più nulla da fare vediamo il servizio di Giorgio Alessandri è molto probabilmente un malore la causa del tragico incidente che questa mattina si è verificato all'Aquila poco prima delle 8 un'auto, una Opel Corsa Nera guidata da un 75enne si è schiantata sul muro di contenimento a Piazza Darmi proprio alle spalle della nuova statua inaugurata qualche settimana fa a perdere la vita è stato Antonio Padovani padre del consigliere comunale Gianni molto conosciuto in città per aver ricoperto a lungo in passato l'incarico di assessore a lavori pubblici della provincia dell'Aquila ancora da definire la dinamica dell'incidente anche se, stando a quanto appreso imboccando la rotatoria il veicolo ha proseguito per la sua strada sfondando la parete un urto violento ma non devastante per questo l'ipotesi del malore del conducente è quella più accreditata dal momento che, all'arrivo dell'ambulanza il personale sanitario non ha potuto che constatarne il decesso oltre al 118 sul posto sono intervenuti anche gli agenti della stradale e i vigili urbani che hanno cercato di gestire la situazione dal punto di vista del traffico come immaginabile infatti la circolazione stradale ha risentito pesantemente del blocco della rotonda di Piazza Darmi nell'ora di punta con auto in coda sia a lungo viale della Croce Rossa sia a lungo viale Corrado IV noi restiamo all'Aquila per parlare di quattro arresti e dunque di cronaca che ci sono stati nel corso di un'operazione contro lo spaccio di droga condotta dagli uomini della squadra mobile della questura del capoluogo in collaborazione con i colleghi di Roma Giorgio Alessandri quattro arresti e numerose perquisizioni da parte della squadra mobile della questura dell'Aquila in collaborazione con quella di Roma tra il capoluogo bruzzese e la capitale nell'ambito di un'inchiesta per spaccio di sostanze stupefacenti a Roma uno degli indagati si è prima barricato in casa e poi ha tentato di fuggire dal primo piano dell'appartamento ma è stato bloccato dai poliziotti all'interno della sua abitazione sono stati trovati di droga e almeno 7.000 euro in contanti ritenuti frutto di illeciti le misure cautelari sono state messe dal giudice per le indagini preliminari dell'Aquila dopo la richiesta della procura della Repubblica l'operazione è stata denominata platforms perché gli indagati nelle conversazioni telefoniche indicavano la droga con il termine criptato pedane in inglese appunto platforms Siamo alla cronaca giudiziaria il primo grado di giudizio sull'inchiesta rifiutopoli si chiude con assoluzioni con formula piena per tutti gli imputati tra cui l'ex assessore alla sanità Lanfranco Venturoni vediamo il servizio di Alfredo Primante Tutti assolti e con formula piena termina così dopo circa sei anni di indagini e processi l'inchiesta sulla cosiddetta rifiutopoli gli arresti della mattina del 22 settembre del 2010 fecero ripiombare l'abruzzo già provato dagli scandali delle tangenti nella sanità e ai comuni di Pescara e Montesilvano dentro l'ennesima bufera giudiziaria sottendendo ancora una volta un intreccio illecito tra affari e politica al centro dell'indagine condotta dalla procura di Pescara c'era la realizzazione di un impianto di bioessiccazione a Teramo per la quale i magistrati della pubblica accusa avevano ipotizzato a vario titolo i reati di corruzione e istigazione alla corruzione abuso d'ufficio peculato turbativa d'aste e millantato credito per l'allora assessore regionale alla sanità Lanfranco Venturoni per l'imprenditore Rodolfo Dizio e il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano per l'imprenditore Ferdinando Ettore Dizio e l'amministratore della Teramo Ambiente Vittorio Cardarella la linea della procura però non è passata al vaglio del tribunale collegiale di Pescara preseduto da Angelo Zaccagnini visto che Varone e Mantini nella loro requisitoria avevano chiesto cinque anni di reclusione a testa per Venturoni e Rodolfo Dizio un anno e sei mesi per Di Stefano e l'assoluzione per Cardarella e Ferdinando Ettore Dizio invece il collegio ha assolto perché il fatto non sussiste Venturoni Rodolfo Dizio e Fabrizio Di Stefano invece assolti per non aver commesso il fatto Ferdinando Ettore Dizio e Vittorio Cardarella subiudice al momento resta il ricorso in appello da parte dei sostituti procuratori Annari Tamantini e Gennaro Varone i fatti si riferiscono al 2008 e prima del secondo grado di giudizio potrebbe intervenire la prescrizione a chiudere definitivamente la rifiutopole abruzzese Siamo alla pagina politica andiamo a Pescara perché il comune dopo 11 mesi dall'avvio delle procedure di predissesto ha ottenuto il sì della Corte dei Conti per il piano di riequilibrio finanziario il sindaco del capoluogo adriatico Marco Alessandrini ha spiegato le conseguenze che tutto questo avranno sulla pressione fiscale per i cittadini pescaresi Sì della Corte dei Conti al piano di riequilibrio per il comune di Pescara proprio ieri all'Aquila la sezione regionale di controllo ha esaminato e approvato il piano pluriennale l'operazione iniziata il 30 dicembre scorso quando fu annunciato il predissesto si conclude ora con una salvezza Lungo ITER iniziato con una delibera nell'ultimo giorno dell'anno 2014 quello cioè dell'avvio del piano di riequilibrio finanziario è giunto in un approdo sicuro perché come da previsione legislativa c'è stato l'assenso tanto da parte del Ministero dell'Interno quanto ieri da parte della Corte dei Conti e siamo anche contenti perché tutto ciò determinerà l'arrivo di un tesoretto notevole di 33,4 milioni di euro è un fondo di rotazione previsto dalla legge il fondo di rotazione significa che su questi soldi il Comune non paga gli interessi e tutto questo serve ad abbattere il monte creditorio su cui pure abbiamo lavorato intensamente su questo anno e significa diciamo continuare sulla via dell'equilibrio finanziario l'altra questione riguarda ora la pressione fiscale se per risanare le casse era stato necessario portare al massimo le aliquote ora il sindaco Alessandrini annuncia che tra gli obiettivi dell'amministrazione esiste un'operazione da tentare per agevolare i cittadini un solidità finanziaria significa che per esempio per la Tari il costo del servizio già dall'anno in corso è diminuito e significa bolletta meno pesante per i cittadini pescaresi e significa in prospettiva futura che se noi non potremmo lavorare sull'aliquote nel senso della diminuzione potremmo però incidere sulle soglie di esenzione perché avendo solidità finanziaria è un discorso che si può fare naturalmente in un'ottica non domani ma di lungo periodo perché è la diciamo unica via che si può seguire oggi in materia di contabilità pubblica ancora politica toni concilianti da parte del sindaco di Francavilla al mare ancora al centro delle polemiche interne al partito democratico Luciani tenta di ricomporre la frattura ma è fermo nei criteri di formazione delle liste elettorali per le prossime elezioni amministrative Luciani qualche settimana fa sembrava tutto a posto per un PD unito per la sua ricandidatura al sindaco di Francavilla nelle ultime ore sono tornate delle polemiche il PD di Francavilla da una parte il PD regionale dall'altra con il segretario Rapino cosa sta accadendo? Secondo me nessuna polemica la questione è risolta il problema è solo uno che io ho preteso e pretenderò in maniera assoluta che chi si comporrà le liste quindi chi si vuole candidare con me deve far parte di un gruppo che è già consolidato quindi non è che potranno rientrare dalla finestra coloro che sono usciti dalla porta in buona sostanza e quindi stabilito questo principio non ci sarà nessun problema si potrà andare avanti tutti insieme come mi auguro che avverrà Qualcuno però dice che così facendo il sindaco Luciani rischia di dividere ancora una volta il PD e Francavilla ma io penso di no la questione io penso che sia superata e penso che l'intelligenza usando l'intelligenza da parte di tutti si potrà formare una squadra unica che vada avanti per il prossimo quinquenni E sta già lavorando alle prossime elezioni quali sono i punti su cui diciamo verterà la sua campagna elettorale in particolare? Beh intanto io sto lavorando come sindaco perché questo piace ai cittadini quindi piuttosto che fare campagna politica si fanno gli amministratori e quindi si realizzano le opere l'abbiamo sempre fatto lo continuiamo a fare il punto è quello di continuare nel percorso di crescita di questa città un percorso avviato quattro anni fa che è evidente agli occhi di tutti abbiamo in mente una città del futuro molto molto bella e vedrete che i cittadini mi daranno fiducia per questo motivo perché stiamo facendo uscire questa città da un lungo tunnel nella quale era stata condotta e parliamo ora di maltempo perché il centro funzionale d'Abruzzo in considerazione delle previsioni meteorologiche ha diffuso un avviso di condizioni avverse emesse dal dipartimento della protezione civile per la giornata di domani e dalla mattinata proprio di domani e per le successive 24-30 ore sull'Abruzzo sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale e nevicate al di sopra degli 800 millimetri in calo localmente fino ai 600 metri con apporti al suolo moderati o localmente abbondanti noi proprio sull'arrivo di questa ondata di maltempo abbiamo ascoltato il nostro meteorologo Giovanni De Palma è una perturbazione quella in arrivo piuttosto intensa caratterizzata dall'arrivo di masse d'aria fredda di origine polare che determineranno e favoriranno la formazione di un minimo depressionario sulle regioni centro-meridionali alla quale sarà associata una fase di maltempo sulla nostra regione che si tradurrà soprattutto con piogge diffuse localmente intense e persistenti in particolar modo sul settore centro-orientale della nostra regione dove cadrà anche la neve sui nostri rievi e sarà copiosa a partire dai 1000-1300 metri localmente a quote lievemente inferiori forti venti di bora sono previsti soprattutto sul versante orientale con mareggiate lungo le coste esposte attenzione perché questa situazione continuerà ad essere tale anche nella giornata di venerdì con delle precipitazioni che gradualmente inizieranno comunque ad attenuarsi in serata e in nottata per il fine settimana però avremo un deciso miglioramento del tempo anche se ci saranno ancora degli annuvamenti Paolo Noi ringraziamo Giovanni De Palma dunque massima attenzione e prudenza proprio per il maltempo in arrivo noi lasciamo anche la pagina relativa proprio al meteo parliamo di cronaca sindacale perché il segretario generale della CGL Abruzzo Gianni Di Cesare conclude il suo mandato dopo 30 anni di attività prima dell'avvicendamento delle cariche traccia un resoconto delle difficoltà superate in questi anni e di quelle che ancora attanagliano i lavoratori abruzzesi e intanto è stato designato il suo successore si tratta di Sandro Del Fattore Francesca Romana Testi dopo 30 anni di carriera al fianco dei lavoratori e delle tante battaglie portate avanti Gianni Di Cesare segretario generale CGL Abruzzo saluta e lascia il suo incarico e nel farlo ripercorre le tappe è un impegno credo di poter dire massimo a difesa del mondo del lavoro 30 anni sono molti sono successe molte questioni gli ultimi anni gli ultimi 8 anni sono stati poi particolarmente impegnativi credo che abbiamo avuto anche un comportamento rispetto alle nostre controparti e rispetto diciamo ai sia istituzionali che d'impresa leale leale perché abbiamo saputo fare conflitto e quindi abbiamo saputo dire dei no abbiamo saputo fare delle piattaforme e abbiamo saputo nello stesso tempo trovare accordi lascia l'incarico ma con la consapevolezza che i tempi sono difficili e che l'Abruzzo si trova a dover affrontare ancora molte importanti battaglie io sono preoccupato molto dell'Abruzzo legato diciamo dall'Abruzzo del terziario dall'Abruzzo dell'agricoltura dall'Abruzzo della spesa pubblica e quindi dei bilanci della regione e quindi sono molto preoccupato di questo la situazione è un po' diversa sull'industria dove ci sono dei pezzi che ci preoccupano molto ma dei pezzi di eccellenza poi noi abbiamo una difficoltà estrema in tutto il mondo dello stato sociale sia a livello nazionale che locale lo stato sociale il welfare è messo in discussione in Abruzzo più che in Italia nel mezzogiorno più che in Abruzzo a prendere il suo posto è Sandro Del Fattore già segretario generale del Molise che spiega i primi traguardi da affrontare per l'Abruzzo vi sono tante vertenze aperte sono tante crisi industriali bisogna seguire queste vertenze queste crisi industriali e provare a dare una soluzione positiva a queste crisi a queste vertenze industriali perché il tema del lavoro è il tema che è al primo posto anche nella regione Abruzzo la crisi ha colpito tutti i comparti tutti i comparti produttivi la pubblica amministrazione i servizi l'edilizia il commercio quindi vi è una crisi diffusa che coinvolge tutti i settori per questo bisogna non solo seguire queste vertenze ma dare soluzioni positive perché il tema del lavoro è il tema ripeto al centro della nostra attenzione della nostra iniziativa della nostra battaglia sindacale in concomitanza in concomitanza con la giornata della legalità quella di oggi anche la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e a Chieti molti studenti hanno organizzato una manifestazione in centro storico Elisa Leuzzo in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne gli studenti degli istituti superiori di Chieti si sono riuniti qui in centro storico una giornata organizzata interamente dai ragazzi per sensibilizzare in quali termini? esattamente vogliamo sensibilizzare contro il femminicidio che ogni giorno porta la morte di donne che non parlano delle violenze che vengono fatte su DS e quindi restano zitte alla violenza degli uomini quali sono i discorsi che fate tra di voi? principalmente noi parliamo cioè le ragazze non parlano di queste cose che gli succedono però si tengono tutto dentro e continuano ad amare le persone che le fanno loro male noi cerchiamo principalmente di stimolare queste donne per fare uscire fuori quello che succede a loro nell'interno della casa e della propria abitazione ecco è importante sottolineare la partecipazione della giornata di oggi in centro storico a Chieti tanti ragazzi degli istituti superiori sono presenti esattamente anche perché non tutte le scuole superiori hanno partecipato questo principalmente è stato organizzato dall'istituto ITCG Gagliani da Esterlich e le altre scuole chi voleva partecipare poteva partecipare liberamente questa manifestazione è stata organizzata insieme alla preside e agli altri professori noi parliamo di sanità piccoli interventi in tempi brevi la chirurgia pediatrica di Pescara grazie alla donazione della Ada Manes Foundation for Children Ollus a una nuova sala operatoria vediamo all'interno dell'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'House di Pescara è stata inaugurata la sala Manes si tratta di una sala operatoria donata dalla fondazione Ada Manes destinata agli interventi di chirurgia ambulatoriale uno spazio che consente procedure più snelle per i piccoli interventi riducendo così i tempi di attesa per bambini e le loro famiglie noi abbiamo un dramma che è la carenza di sedute operatorie ovviamente questa sala operatoria che comunque ha tutti gli effetti non grande ma ben attrezzata ci dovrebbe permettere di decongestionare in parte speriamo in buona parte inizialmente saremo molto prudenti nelle indicazioni per interventi che non necessitino di anestesia generale l'obiettivo della fondazione Ada Manes è proprio quello di facilitare le terapie chirurgiche rivolte ai pazienti più piccoli di ogni luogo e provenienza sociale sostenendo sia il miglioramento delle strutture dedicate nelle città di Pescara e in Italia sia nei paesi in via di sviluppo le prime risorse ovviamente sono state dedicate alla chirurgia pediatrica di Pescara ma in questo anno abbiamo già anche partecipato a due missioni di chirurgia pediatrica in Etiopia nella regione del Tigrai dove in due missioni ognuna di 15 giorni noi abbiamo operato più di 100 bambini ne abbiamo visitati più di 300 la prossima missione parte a dicembre e speriamo di continuare con progetti efficaci la società civile deve partecipare e contribuire con le istituzioni a rendere le strutture destinate al pubblico quanto più efficaci e lì dove il pubblico non arriva e siamo non dimentichiamo che siamo in tempi di tagli alla sanità lì dove il pubblico non arriva ecco le associazioni le fondazioni eccetera è bene che facciano il loro la donazione della nuova sala operatoria reparto di chirurgia pediatrica di Pescara del valore di 30.000 euro è stata resa possibile grazie anche al contributo di donors organizzati dal milianico Golf Club in occasione della giornata della legalità Confcommercio Chieti ha organizzato un incontro nel corso del quale sono stati illustrati i risultati di un questionario sulla criminalità cosa è emerso dal questionario sulla criminalità dato da Confcommercio? i risultati maggiormente significativi sono stati quelli che ci riferiscono che da parte degli imprenditori non c'è sicurezza del territorio che vivono il 65% degli imprenditori ha come dire sottolineato come negli ultimi anni ci sia stato un incremento dei fenomeni criminosi e il 50% appunto non si sente sicuro sul territorio che vive solo il 30% degli intervistati hanno come dire videosorveglianza o antifurto e solo il 20% hanno delle assicurazioni hanno paura maggiormente dei furti e delle rapine e ritengono che le giornate maggiormente a rischio siano il sabato e la domenica pur mantenendo alta come dire l'attenzione anche sugli altri giorni della settimana invece come dire simpatico è venuto fuori anche un identikit del taccheggiatore dove si attribuisce un'età tra i 35 e i 54 anni per il 56% di nazionalità italiana donna e madre di famiglia e noi siamo alla pagina dello sport del calcio per parlare del Pescara seduta di allenamento pomedildiana per i biancazzurri a due giorni dal big match del Dino Manuzzi di Cesena le notizie positive riguardano i recuperi di Crescensi Memushai e Di Benali che sono dunque tutti disponibili per la gara in terra di Romagna anche Fiorillo ha ripreso ad allenarsi anche se con una speciale maschera dopo la rottura del setto nasale frattura composta comunque del setto nasale il suo impiego venerdì sera contro i bianconeri Romagnoli e comunque ancora in forte dubbio in preallarme c'è sempre il secondo portiere Aresti prosegue il lavoro differenziato forte mentre sono stati effettuati esami strumentali per Campagnaro fermo per infortunio l'attaccante Cappelluzzo domani alle 13.30 ci sarà la conferenza stampa del tecnico e poi nel pomeriggio la partenza per Cesena noi questa sera ascoltiamo il difensore Biancazzurro Fornasier Michele Fornasier grande entusiasmo a Pescara dopo anche l'ultima vittoria di campionato si pensa già alla gara di Cesena ma questi tifosi sognano occhi aperti Certo come lo facciamo noi perché sappiamo di essere una bella squadra e abbiamo tutte le possibilità per far bene adesso dobbiamo come hai detto te pensare subito a Cesena e già ci stiamo lavorando questa settimana e andremo lì più convinti di prima La difesa è un po' sempre sotto l'occhio critico dei tifosi ma anche degli addetti ai lavori Fornasier come vive il fatto di essere il vice campagnaro o comunque di essere almeno nelle gerarchie oggi il terzo difensore centrale è una cosa che ti crea problemi oppure tu vai avanti per la tua strada? Io vado avanti per la mia strada sono convinto di quello che so fare e ho le mie certezze e quindi ogni volta vado in campo cerco di dare il massimo poi il resto verrà Nelle ultime settimane qualche critica l'avevi ricevuta dopo qualche prestazione non eccelsa soprattutto dopo l'espulsione nella gara con la Ternana come hai vissuto quei giorni? Come tutti gli altri è il calcio ci sta è normale faccio il difensore e ogni tanto ci stanno anche i rossi purtroppo Difesa siete un po' contati considerando che Campagnaro non sta benissimo Bunoza è reduce da un infortunio complicato il fatto di essere in pochi vi fa stare in qualche occasione poco tranquilli? No noi sappiamo quelli che siamo e ognuno dà il 100% per la squadra e per se stesso quindi chiunque va in campo non abbiamo problemi chiunque sia sappiamo che farà quello che deve fare Per te questa può essere la stagione della definitiva consagrazione? Io lavoro per quello poi come ti ho detto prima i risultati verranno da sé io sono convinto di quello che faccio ogni giorno in allenamento in campo e poi il resto verrà Qual è l'obiettivo di questo Pescara? Dove volete arrivare? Si parla tanto di playoff ma in questo momento avete un obiettivo preciso? In questo momento è vincere a Cesena e dopo Cesena sarà vincere quella dopo quindi io guardo partita per partita Restiamo in Serie B parliamo del Lanciano oggi allenamento ad Ortona per i Rossoneri verso il recupero l'attaccante Ferrari si è allenato regolarmente dice Ecco che dunque è disponibile per la gara con il Latina mentre a Menta sarà ancora fuori e sabato ci sarà proprio al Biondi la gara con i Laziali per l'allenatore dei Pontini Mario Somma da poche settimane alla guida della formazione Nerazzurra C'è la grana portieri con Di Gennaro infortunato per qualche mese il secondo Farelli non dà ampie garanzie si valutano altre opzioni noi andiamo nel prossimo servizio a conoscere proprio la formazione Pontina in Latina Le due reti prese dalla Salernitana confermano pur non volendo attribuire tutta la responsabilità al singolo l'esigenza di un portiere più affidabile a tre pali nel caso di Simone Farelli infatti il lungo passato da dodicesimo si fa sentire e non è ipotizzabile un suo impiego stabile per lungo tempo peraltro indecifrabile visto che Di Gennaro potrebbe non essere disponibile prima di marzo motivo per cui c'è un altro portiere in prova alla ex Fulgor Cavi la storia di Daniel Leone è bella da raccontare Napoletano classe 93 giocava nella regina quando gli è stato diagnosticato un tumore al cervello dopo l'intervento forse nemmeno lui sperava più di tornare in campo invece si sta giocando l'opportunità di un tesseramento in serie B a due ore da casa Daniel Leone l'opportunità se la gioca con l'argentino Juan Cruz Curzi classe 94 già dalla scorsa settimana aggregato a Latina Calcio il tesseramento di Leone in quanto classe 93 comporterebbe il fuorielista di Farelli che invece rimarrebbe se la scelta dovesse ricadere su Curzi classe 94 oltre al portiere l'attenzione di somma è rivolta alle storture che sul terreno di gioco continuano a macchiare delle prestazioni di qualità in infermeria rimane Marchionni mentre Moretti è recuperabile per Lanciano servono uomini di qualità anche se la buona prova di scaglia ed il rientro di Olivera consentono al tecnico un ventaglio più ampio di scelte e noi siamo al calcio di Lega Pro al Teramo in particolare perché dopo il centrocampista Cenciarelli anche l'attaccante Mirko Petrella ha rinnovato questa sera il contratto già in essere con la Teramo Calcio il 22enne atleta originario di Prato La Peligna la quinta stagione in bianco rosso con uno score di 122 presenze e 18 reti ha infatti firmato il prolungamento dell'accordo fino al 30 giugno del 2018 la società ha detto Petrella si è sempre comportata bene nei miei riguardi e quindi era giusto accettare la proposta avanzata ringrazio tifosi e città a Teramo mi sento a casa ed anche questo aspetto ha finito per influire positivamente sulla mia scelta dunque auguri a Petrella e Teramo che guarda la gara di domenica prossima al Bonolis con la Robur Siena dopo due sconfitte consecutive i bianco rossi sono obbligati alla conquista dell'intera posta è tornato ad allenarsi il capitano del Teramo Ivan Speranza che dovrebbe essere proprio della gara con i toscani ascoltiamolo conosco molto bene il presidente conosco la sua la sua voglia di vincere sempre la sua la sua passione che ci mette qui nella Teramo calcio quindi è normale e ci deve essere solo da sprono prendere le sue parole solo da sprono e da d'aiuto per tutti noi perché lui giustamente gli piace solo vincere e deve essere così anche per noi perché la nostra mentalità è sempre stata questa comunque una mentalità abbastanza vincente derivata anche da lui soprattutto da lui quindi dobbiamo cogliere il suo sfogo le sue le sue esternazioni in maniera positiva solo per per far bene per per vincere ma le mie condizioni ho iniziato a correcciare venerdì quindi stiamo andando giorno per giorno vediamo un pochino la condizione i dolori fisici come sono valutiamo giorno per giorno insieme allo staff tecnico e medico purtroppo le squadre ci conoscono ci conoscono dall'anno scorso sanno come giochiamo quindi adottano la tecnica migliore che è loro che nel senso ci aspettano e magari ci ripartano e noi avendo quella voglia comunque di di far gol di sempre propositivi e andare avanti magari ci sbilanciamo anche troppo a volte però dobbiamo essere bravi a calarci in questa mentalità nuova e di di lottare di più nel senso essere come ho detto prima più compatti sacrificarci di più per il compagno che magari è la cosa migliore secondo me e magari in queste partite magari c'è stato un po' di meno però la cosa migliore è uscirne con il gruppo perché il singolo secondo me non è che ti può vincere tutte le partite e dunque siamo giunti al termine di questa terza edizione del TG6 grazie per averci seguito dalla nostra redazione l'augurio di una notte serena grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti